Musica Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Accomarche. Oggi, sabato 14 novembre 2015, mi trovo a Roma, in questo momento sono in Via Cavour, vedete alle mie spalle la gloriosa sede dell'Unione Inquilini di Roma. Gloriosa sede per le grandi battaglie a favore dei senza tetto, dei rifugiati, dei malalloggiati, degli sfrattati, sempre per il diritto alla casa e con il diritto di passaggio da casa a casa, non agli sfratti senza passaggio da casa a casa. Unione Inquilini di Roma. Saluti da Carlo Cardarelli, Accomarche e Unione Inquilini Marche. Musica 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 Musica